Testo unico sulla trasparenza e legge anticorruzione, oggi a Pescara un incontro rivolto a tutti coloro che ruotano attorno alla pubblica amministrazione. Per la prima volta sul territorio cittadino abbiamo portato il consigliere Toschei del Tarlazio, il consigliere Baldanza, componente della Corte dei Conti e sezione di controllo regionale Abruzzo. Un convegno che in qualche modo inizia un percorso che è lungo, sarà lungo e faticoso da parte della pubblica amministrazione, segnatamente del comune di Pescara, che dovrà arrivare a definire un piano triennale anticorruzione. Cambierà qualcosa per il cittadino nell'approccio con la pubblica amministrazione? Il cittadino già dovrebbe sapere che il legislatore nazionale da tempo ha aperto a una sorta di controllo diffuso la pubblica amministrazione, che quindi non ha più la necessità spesso di passare per quelle che erano delle vie più strette, come l'accesso ai documenti e i ricorsi amministrativi. In quest'ottica sia la legge 190 che soprattutto il decreto attuativo, il 33 del 2013, che riguarda espressamente la trasparenza, rendono il comune maggiormente accessibile dall'esterno attraverso gli strumenti informatici e segnatamente il sito internet. Quindi da questo punto di vista il cittadino avrà grande beneficio da queste norme. Naturalmente l'importante è che lo venga a sapere.